The cabin has turned on the seatbelt sign. Please take your seats. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente molti di voi avranno pensato, cavoli, ora si mette a parlare di medicina. Beh, sì e no. E perché, soprattutto? Questa è la domanda che penso vi sia balenata in testa. Il motivo è che l'aviazione ci costringe, e questa è una cosa positiva, a relazionarci con la conoscenza del nostro corpo umano. All'interno di questa rubrica di Human Factor non parleremo soltanto dell'aspetto psicologico, ma anche di quello fisiologico del volo. E il volo ha molto a che vedere con la propria fisiologia, con i propri limiti. Al fine di comprendere questi limiti, è bene fare una digressione, che vi prometto sarà interessante, su quello che è il nostro corpo umano e come funziona. Oggi parleremo di una parte dell'apparato circolatorio. Come ho detto all'inizio, non sono un medico, non parlerò in maniera tecnica e indirizzandomi a medici, perché chiaramente non ne sono assolutamente titolato. Tuttavia, quello che dirò sarà interessante per tutti coloro i quali stiano studiando, per esempio per il PPL o la TPL, come conoscenza generale da aggiungere al proprio bagaglio, o magari per aiutare chi sta studiando queste materie, e avere un quadro generale di quello che succede al nostro corpo quando vogliamo. Perché la conoscenza dei propri limiti e della propria fisicità sicuramente crea dei piloti più consapevoli. E vi prego di seguire la sezione dei commenti, dove potrei pubblicare con un commento in primo piano eventuali errori che è naturale io possa commettere in questo video. Detto questo, iniziamo subito con l'argomento, parlando del nostro apparato cardiocircolatorio. Il nostro apparato cardiocircolatorio, come suggerisce il nome, è composto da due elementi principali. Abbiamo il cuore, che è un muscolo e assolve alla funzione di pompa, che manda in circolo un fluido, il quale si chiama sangue, che vedremo a brevissimo. E poi abbiamo una seconda parte di questo sistema, che è tutto l'insieme dei vasi sanguigni all'interno dei quali scorre appunto il nostro sangue. Queste le due parti principali. Possiamo ulteriormente suddividere i nostri vasi sanguigni in arterie, vene e capillari, e a breve vedremo di che cosa si tratta. Nel nostro apparato cardiocircolatorio vi sono due circuiti posti in serie, quindi uno in coda all'altro. E questi sono i due circuiti principali. Abbiamo la grande circolazione, chiamata anche circolazione sistemica, e la piccola circolazione, chiamata circolazione polmonare. Adesso vedremo e approfondiremo anche questo aspetto. Gli organi, contrariamente a questi circuiti principali, sono connessi in parallelo, quindi potremmo dire in cascata. Non c'è un organo che travasa in un altro organo, ma tutti quanti sono alimentati parallelamente, come vi sarà facile vedere da questo schema. Parliamo adesso della pompa, della parte centrale del nostro apparato cardiocircolatorio, che altro non è che il nostro cuore, un muscolo involontario che si trova all'interno della nostra cavità toracica. Esso è composto macroscopicamente da quattro camere, due atri e due ventricoli. Gli atri sono le camere più piccole presenti all'interno del nostro cuore. Sono deputati all'ausilio, quindi ad aumentare l'efficienza di pompaggio dei ventricoli, che fanno il lavoro più grosso, e sostanzialmente sono le camere di ingresso del sangue prima dei ventricoli, perché il sangue quando arriva nel nostro cuore, sia da un lato che dall'altro, entra prima negli atri e poi nei ventricoli. I ventricoli sono quelli che fanno, tra virgolette, il lavoro sporco. Sono le camere più grandi che pompano il sangue all'interno dei due circuiti di cui abbiamo parlato prima. Qualsiasi vaso sanguigno parta dai ventricoli si chiama arteria. Qualsiasi vaso sanguigno arrivi negli atri si chiama vena. E questo sia se il sangue presente all'interno di queste vene o di queste arterie sia ossigenato o meno. Quindi non è l'ossigenazione che dà il nome a questi vasi sanguigni. Parliamo adesso della grande circolazione. Che cos'è? Allora, la stessa parte dal ventricolo sinistro. Il ventricolo sinistro si contrae e spinge in pressione il sangue all'interno della orta, che in seguito lo distribuirà, distribuirà questo sangue ossigenato all'interno dei vari distretti del corpo, quindi ai vari apparati, ai vari organi. Qui il sangue cederà con un meccanismo che vedremo in seguito, l'ossigeno ai tessuti, agli apparati, agli organi, e assorbirà anidride carbonica. Quindi attraverso le varie vene del corpo entrerà all'interno dell'atrio destro per poi fluire all'interno del ventricolo destro. E di qui inizierà la piccola circolazione. Il ventricolo destro si contrae e spinge in pressione il sangue all'interno della cosiddetta arteria polmonare. Questo sangue, come vedete, è ricco di anidride carbonica e nonostante ciò percorre un'arteria. L'arteria polmonare, come suggerisce il nome, va dal cuore ai polmoni. E qui all'interno dei polmoni, in particolare negli alveoli, i piccoli capillari consentono la diffusione di anidride carbonica all'esterno degli alveoli e l'acquisizione di ossigeno all'interno del sangue. E qui, attraverso le vene polmonari, verrà spinto nuovamente nell'atrio sinistro. Dall'atrio sinistro entrerà nel ventricolo sinistro per ricominciare la grande circolazione. Ecco, questo schema probabilmente vi sta semplificando un po' quello che succede. Qui sono poi delle arterie e vene particolari che vengono chiamate coronarie. Questi vasi sanguigni si occupano di alimentare il cuore. Il cuore è un muscolo, ha bisogno di nutrienti, di ossigeno e anche di rilasciare sostanze di scarto del suo funzionamento all'interno del sangue. Le stesse avvolgono il cuore in un complesso reticolo, appunto, di vasi sanguigni e di fatto alimentano il muscolo cardiaco. Ecco perché la loro istruzione, come vedremo poi nel prossimo video, comporta delle patologie gravissime come per esempio l'infarto meocardico che è di fatto il mancato apporto di ossigeno al muscolo cardiaco che poi ne determina la necrosi e quindi poi di fatto l'arresto cardiaco. Parliamo del sangue. Il sangue è un tessuto, strano a dirsi ma lo è, è un tessuto di consistenza liquida deputato al trasporto di sostanze gassose come ossigeno e anidride carbonica e altre e di sostanze nutrienti verso le cellule e dei loro cataboliti, quindi di tutte le sostanze di scarto che dalle cellule vengono prodotte durante la respirazione cellulare e vengono reimmesse all'interno del sangue per poter essere poi smaltite. Il colore del sangue va dal rosso al violaceo e il suo colore è principalmente dovuto alla concentrazione di ossigeno o anidride carbonica presente all'interno. Non è un mistero che il sangue arterioso sia di colore rosso vivido mentre il sangue venoso sia di un colore più violaceo e vedremo a breve il perché. Ora, il sangue è composto da una parte corpuscolare, quindi al cui interno ci sono delle cellule, e da una parte liquida che chiamiamo plasma. Circa il 55% del sangue è liquido, quindi è plasma, e il 45% è composto da corpuscoli. Cosa sono questi corpuscoli? Beh, ci sono un'infinità di corpuscoli presenti all'interno del nostro sangue. I più famosi sono certamente i globuli rossi, cellule deputate al trasporto di ossigeno attraverso l'emoglobina. L'emoglobina è una complessa struttura alla quale si può legare l'ossigeno. Quindi, di fatto, l'emoglobina la dovete immaginare un po' come il portabagagli della vostra auto che trasporta all'interno ossigeno. I globuli rossi mancano del nucleo, quindi non è presente un nucleo all'interno di queste particolari cellule. Hanno un ciclo vitale medio di circa 108 giorni e vengono quindi, come è facile capire, continuamente rinnovate. Il processo di rinnovamento del sangue parte, in massima parte, dal midollo osseo, quindi dalle nostre ossa, paradossalmente. Per quanto strano possa sembrare, noi immaginiamo l'osso come un tessuto morto, sostanzialmente in realtà, come vediamo, non è poi così. All'interno del midollo osseo avviene un fenomeno che è chiamato emopoiesi, che poi genera di fatto il nostro sangue e, tra i tanti, genera anche i corpuscoli come i globuli rossi. Associati ai globuli rossi, nella parte corpuscolare del sangue, troviamo anche i loro amici globuli bianchi. Questi globuli bianchi, detti anche leucociti, principalmente assolvono la funzione immunitaria, quindi di sicurezza, del nostro corpo. Sono di varie nature, non esiste un solo tipo di globulo bianco, ce ne sono tantissimi, e questi globuli bianchi assolvono la funzione di, appunto, risposta immunitaria del nostro corpo. Insieme a globuli rossi e bianchi vi sono le piastrine, dei corpuscoli specifici che si occupano della coagulazione del sangue, quindi quando ci feriamo e si forma la crosticina, il mezzo per cui questo si forma sono anche queste piastrine. Ma come avviene il trasporto di ossigeno per mezzo del sangue? Allora, una parte minuscola di ossigeno viene trasportato all'interno del sangue diffuso nella parte liquida, quindi come gas sciolto, disciolto all'interno del plasma. La parte più importante, la più sostanziosa, avviene, come abbiamo detto, per via dei globuli rossi e per legame con l'emoglobina. Ora, perché avviene questo? Cioè, com'è possibile legare, scollegare? No, perché probabilmente nel nostro immaginario c'è un po' l'idea di impariamo il corpo umano, che ci dà l'idea che ci sia una sorta di intelligenza in tutto ciò, cioè che ci sia fisicamente una persona che prende la molecola dell'ossigeno, la trattiene a sé, se la porta e poi la lascia quando c'è bisogno. Allora, il meccanismo non è chiaramente proprio questo, ma si tratta di una questione di gradienti di pressione. In poche parole, immaginate il globulo rosso che arriva negli alveoli dei nostri polmoni. All'interno degli alveoli i capillari hanno una parete sottilissima. In questo modo le molecole di ossigeno vengono spinte dalla depressione all'interno dei nostri polmoni, quindi dalla depressione della nostra respirazione, vengono forzate ad attraversare la parete di questo vaso sanguigno, di questo capillare. E per un legame con l'emoglobina si lega appunto questa molecola. Non è un legame fortissimo, è abbastanza debole, è abbastanza esile, però l'ossigeno ci rimane debolmente incollato. Immaginate che vi sia un'affinità, come poi d'altronde è, tra l'emoglobina e l'ossigeno. Questo forma l'ossi-emoglobina, un composto di emoglobina e ossigeno. Questo composto viene appunto trasportato dal sangue all'interno dell'apparato circolatorio. Nel momento in cui viene trasportato i vasi sanguigni hanno pareti troppo spesse per poter consentire a questo ossigeno di lasciare il sangue, che di conseguenza preferisce rimanere legato all'emoglobina. Cosa succede però nel momento in cui il sangue va a finire nei capillari che irrorano tutti i nostri organi, i nostri apparati? Beh, l'ossigeno a questo punto non avrà più la costrizione delle pareti e per gradiente, perché all'interno delle cellule che lo consumano non ce n'è, l'ossigeno si staccherà e spontaneamente migrerà all'interno della cellula. Se vi sembra strano questo, potete fare un semplice esperimento per capire come effettivamente vi sia questa diffusione, anche se non avviene poi esattamente così, però questo esperimento vi fa più o meno comprendere quello che avviene. Se voi prendete un bicchiere d'acqua e ci mettete una goccia di colorante, vi accorgerete che inizialmente la goccia di colorante rimarrà più o meno sempre dov'è, ma se fate passare del tempo, vi accorgerete che la goccia di colorante, anche se non agitate, se non fate niente in particolare, per diffusione si diffonderà in tutto il vostro bicchiere. Ecco, lo stesso fa l'ossigeno, in scala microscopica è molto più semplice. La molecola migra verso dove non ci sono altre molecole di ossigeno, quindi si stacca dall'emoglobina, entra nella cellula, la cellula effettuerà il processo di respirazione cellulare attraverso l'uso di glucosa e altre cose, diciamo, quindi ci addentriamo in questioni molto più complesse, diciamo che comunque produrrà con questo ossigeno dell'energia e il processo di scarto della produzione di questa energia sarà anidride carbonica, CO2. Questa CO2 sentirà che all'interno del vaso sanguigno del capillare non vi è anidride carbonica e quindi migrerà all'interno del sangue. Qui troverà la parte acquosa del sangue e CO2 più H2O crea il cosiddetto acido carbonico che poi viene trasportato via sostanzialmente dal sangue. L'acido carbonico è un acido, come dice il nome, no? E questo acido carbonico determina l'acidità del sangue. Il sangue è sempre in una qualche misura acido. L'acidità del sangue, come poi vedremo quando parleremo di iperventilazione, è un qualcosa di molto importante per determinare la frequenza respiratoria o, diciamo, banalmente la fame d'aria. Quindi il corpo si sente, percepisce la mancanza di ossigeno all'interno dei suoi tessuti o meglio, all'interno del suo sangue attraverso la presenza di più acido carbonico che quindi significa che c'è più CO2 che ossigeno oppure di meno acido carbonico che vuol dire che c'è più ossigeno che anidride carbonica. Ne parleremo adeguatamente poi in seguito. Successivamente la CO2 presente nel sangue verrà rilasciata all'esterno degli alveoli quindi nella cavità polmonare e poi di lì espirata e il ciclo riparte. Ora parliamo di gittata cardiaca anche detta output cardiaco identificando il volume di sangue che per ogni minuto viene pompato dal ventricolo sinistro verso tutti i distretti del nostro corpo. Come è facile capire, questa gittata cardiaca è determinata dal numero di pulsazioni al minuto del nostro cuore, quindi dalla frequenza cardiaca, perché se pompa più volte al secondo, più volte al minuto, è chiaro che più sangue verrà messo in circolo ogni minuto all'interno del nostro corpo, ma questo dipende anche dal displacement, diciamo dalla contrazione del nostro ventricolo che può essere debole o molto più forte. Quindi se il ventricolo si comprime, quindi pompa con una certa intensità, pomperà molto più sangue rispetto a se si contrae con più debole intensità. Quindi l'output cardiaco è determinato da quanto velocemente il nostro cuore batte e quanto sangue viene pompato per ogni battito. Normalmente questo output cardiaco negli individui sani, a riposo, adulti, è di 5,5-5 litri al minuto circa. Quindi ogni minuto all'interno del nostro apparato circolatorio vengono messi in circolo sostanzialmente 5 litri e qualcosa di sangue. Cosa determina però la frequenza cardiaca? Allora, ci sono delle condizioni ambientali e delle condizioni endogene, potremmo dire più psicologiche, all'interno dell'individuo. E diciamo che queste le conosciamo molto molto bene. Infatti, fra le cause ambientali possiamo determinare l'esercizio fisico. Se stiamo facendo esercizio fisico abbiamo bisogno di tanto ossigeno e quindi il nostro cuore batterà più frequentemente, con una frequenza più elevata, quindi più volte ogni minuto. In più, se siamo a un'altitudine elevata, la mancanza di pressione dell'ossigeno, quindi una ridotta più correttamente pressione dell'ossigeno, porterà il nostro cuore a battere più di frequente. Quindi se siamo in montagna, il nostro cuore batte più frequentemente rispetto a se siamo a livello del mare. E poi anche la temperatura ambientale, che determina come effetto primario una vasocostrizione, una vasodilatazione, per ovviamente quel meccanismo che si chiama termoregolazione all'interno del nostro corpo. Altri fattori che determinano una frequenza cardiaca variata rispetto alla condizione di riposo sono ad esempio la gas syndrome, la general adaptation syndrome, di cui poi parleremo più avanti. Uno stato di shock o uno stato emotivo, pensate alla paura, all'ansia, alla rabbia. Queste cose fanno cambiare la frequenza cardiaca e non per via di fattori ambientali. Bene, questa era un'infarinatura di base sull'apparato cardiocircolatorio. Ovviamente, come avete visto, non è esaustiva, ma è tutto quello che ci serve per poter andare avanti e comprendere nel prossimo video quali sono i problemi che riguardano il nostro apparato cardiocircolatorio e come questi, quando si manifestano nella pratica del volo, possono essere ovviamente molto pericolosi. La conoscenza dell'apparato cardiocircolatorio, come vedremo più avanti, è molto importante al fine di comprendere tutte quelle modificazioni fisiologiche che ci sono durante particolari condizioni di volo e possono aiutare tanto i piloti, tanto i passeggeri, a essere più consapevoli anche di quello che succede all'interno del proprio corpo. Bene, il video termina qui. La foto di oggi ce la manda Gioia che mi ha scritto delle bellissime parole all'interno della mail e mi ha detto anche che attraverso questo canale le è nata questa nuova passione per gli aerei. Quindi sono felicissimo per questo e di conseguenza pubblico una delle foto che mi ha inviato in cui appunto lei viaggiava da Treviso a Palermo e ha scattato questa foto dal suo finestrino. La ringrazio per tutto quello che ha scritto e la saluto veramente caramente. Se anche voi volete inviare la vostra foto da pubblicare a fine video vi invito a farlo attraverso l'email che appare qui sotto nel video e inoltre sappiate che esiste anche un gruppo di Telegram dove ogni settimana pubblico piccole curiosità e aggiornamenti sul mondo dell'aeronautica civile. In più ogni lunedì o intorno a lunedì vi è un sondaggio per decidere l'argomento del video di quella settimana quindi c'è anche un alto grado di interazione anche in questo senso. Se il video vi è piaciuto come sempre vi invito a mettere mi piace e a condividerlo se non l'avete già fatto e a iscrivervi al canale. Come sempre non posso che ringraziarvi per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. a un prossimo video. a un prossimo video. a un prossimo video. a un prossimo video.